Pietro, prendi una macchina nel becchero, io me la prego, parla col comandante, col cattuolio, siamo sempre primocili. Domani mattina scrive qualcosa con la coltana. Cosa faccia Pietro? Che cosa vuol che ti dica Pietro? Oh, ascolta, aspetta, aspetta. Oh, grazie. Vuoi andare a... Poliziotti in difficoltà, dico che non hanno più lacrimogeni? Io cosa faccio? Se ne trovate altre? Possiamo spostare dalla... Sì, vai a entrare qua. No, no, in avanti, sono indietro. Tu, lei capisce? Tu, lei capisce? Tu, lei capisce? Io non credo che venire fuori di qua, giro a scuola.